ciao pascal buongiorno sono molto contento di farti gli auguri per i 25 anni del tuo festival al capri hollywood che per me insomma è un festival all'assolutamente del cuore sei stato uno dei primi a segnalarmi all'interno della tua manifestazione e devo dire che ogni volta è sempre un piacere vedere come riesci a invitare grandi star internazionali e a metterli in contatto con il nostro cinema con la nostra cultura e quindi insomma ogni volta che sono venuto sia da te a capri che a los angeles che a ischia è stato sempre un grandissimo piacere devo dire che l'attività che fai è preziosissima perché il nostro cinema ha un grande bisogno di comunicazione e la comunicazione con hollywood è forse una delle più preziose sono state decine centinaia immagino gli incontri e i progetti che sono nati all'interno del tuo festival io stesso mi sono divertito ho conosciuto un sacco di professionisti ho conosciuto anche i miei idoli quando quando ero più piccolo le prime volte che sono stato invitato e l'augurio è quello di continuare così con altri 25 anni anzi 50 di grandi attività ne abbiamo un gran bisogno e facciamo il tipo per te ciao pascal